Musica Uscite ridotte al minimo indispensabile, nonni che non possono vedere i nipoti, non c'è più vita sociale. Il Covid-19 ha stravolto inevitabilmente le nostre abitudini. Questa mattina le telecamere di TV Siri sono state nel centro storico di Torre del Greco, per capire come l'emergenza sanitaria ha inciso sulla quotidianità dei cittadini. Il Covid-19 è entrato nelle nostre vite cambiandole. Come questa emergenza ha cambiato i suoi stili di vita e la sua quotidianità? Cambiata totalmente, si esce solo veramente per necessità e nulla, si passano le giornate in casa. Bisognerebbe essere tutti un po' più responsabili, evitare di incontrarsi se non veramente per lo stretto indispensabile. Le manca molto la quotidianità che c'era prima del Covid? Assolutamente sì, purtroppo non vedo i miei genitori perché sono anziani e quindi li tengo molto riguardati come i familiari e quant'altro. Come ha cambiato invece la sua di quotidianità? Praticamente c'è stata proprio una rivoluzione, a parte il fatto che bisogna stare un attimino molto più attenti e poi mi ha limitato nel lavoro, mi ha limitato anche con i ragazzi, insomma è stato un bel cambiamento, non facile. E come ha cambiato invece la sua vita sociale? Praticamente io sono parte di una famiglia molto unita e non mancava occasione che ci incontravamo, non le nascondo che già da un bel po', che non vedo cognati, non vedo sorelle. E anche con i miei ragazzi, con i miei figli, cerchiamo un attimino, perché lavorano tutti e due, cerchiamo un attimino di mantenere le distanze e quindi è da molto che non c'è più vita sociale, anche con gli amici. Io adesso sono uscita un attimino da scuola, perché noi stiamo iniziando a fare un po' di didattica in presenza, sono dovuta andare a fare una commissione, adesso immediatamente io torno a casa, se no io non starei neanche per strada. Dobbiamo stare attenti, perché non è uno scherzo, è inutile che ci prendano in giro e dicono che sia un'influenza più pesante, non è così, assolutamente non è così. E quindi dobbiamo stare attenti e essere responsabili per evitare il peggio, il peggio anche a livello economico, che se adesso stiamo attenti, le cose probabilmente si metteranno a posto. La mancanza di controlli e le falle nel sistema sanitario sono gli altri problemi che emergono nuovamente dalla voce degli intervistati. Sono stata dal mio medico 20 giorni fa, ho fatto il vaccino antinfluenzale, ho chiesto al mio medico che cosa potesse portarmi, se un po' di febbre, dolori eccetera, mi ha detto no, non succede niente. Il giorno dopo mi è salita la febbre a 38 e mezzo. Ho dovuto chiamare il medico, ma il medico non mi ha risposto. A oggi, dopo 15 giorni, non ho avuto ancora nessuna risposta. Se non era per mio nipote che è il medico e la moglie è medico, ho chiesto a loro cosa dovevo fare. Mi hanno dato la tecvirina, ma non era il covid, ma era semplicemente la reazione al vaccino. Certo, la paura c'è, ma noi cittadini dovremmo comportarci molto ma molto meglio di quello che facciamo. Mascherina, evitare riunioni, evitare assemblamenti e ascoltare un pochino di più quello che dicono i grandi professori e non il nostro sindaco, che dovrebbe fare qualcosa per i suoi cittadini, a parte l'inciviltà che c'è che è esagerata. I vigili dove sono? I vigili urbani? Hanno tutto il covid? O stanno nei bar limitrofi, nelle zone dove non vengono visti? Allora, che mettesse i vigili urbani in strada? Qui non se ne vedono. Sono giorni che non si vede un vigilo urbano. Assolutamente. Allora provveda a fare quello che deve fare. Come il covid ha influenzato e come ha cambiato la sua vita? Beh, la mia vita è cambiata che devo stare di più in casa, non posso, magari se voglio fare una gita, un'escursione, voglio andare in un'altra città, non posso andare. Nei negozi devo fare la fila. Anche magari se devo andare a trovare qualcuno, sono impedita di andarci perché magari posso trasmettere il virus oppure almeno me lo possono trasmettere. Insomma è diventato stressante questo problema. Però, rispetto al mese di marzo, di aprile, mi sento un pochettino più libera perché allora giustamente dovevamo stare proprio segregate in casa. Le restrizioni che sono in arrivo in queste ore, crede siano sufficienti o teme che siano necessarie misure più restrittive? Le misure adottate, il fatto del distanziamento e della mascherina e di pulirsi le mani in continuazione, penso che questo già basta, soprattutto il distanziamento. Però poi il resto penso che non... perché poi giustamente queste misure di non uscire alle 10, di avere il coperifiorno alle 10, fino alle 5 di mattina, cioè è un orario che è normale. Quante persone possono stare in mezzo alla strada alle 10 di sera fino alle 5 di mattina? Penso che sono poche e quindi penso che è una misura che non la vedo abbastanza importante. Come è cambiata la sua quotidianità? La quotidianità è lontana dai nipoti, il distanziamento, tutto. Prima avevo un po' la babysitter, adesso no, perché giustamente fra bimbi e nonni è un po' di distanziamento. È cambiato di tutto, se fai spese stai sempre con timore di incontrare uno senza mascherina. È cambiato proprio il tempo di tutti noi. La scuola non si va, tutte queste cose sono cambiate per noi. Logicamente il lavoro, la vita, siamo un po' di timore nell'aria, ma che Dio ce l'ha mai di buono.